Musica Un consiglio in rosa contro il tumore al seno Approvato l'ordine del giorno, culle per la vita Si è insediato il nuovo comitato resistenza e costituzione del Consiglio regionale Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati Il Consiglio regionale si è tinto di rosa contro il tumore al seno Per ricordare e diffondere il messaggio che la prevenzione evita In occasione del Mese internazionale della prevenzione del tumore al seno Anche l'Assemblea legislativa aderisce all'iniziativa La Regione si colora di rosa Insieme per la prevenzione Organizzata da Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno La Galleria Belvedere, in concomitanza con la seduta del Consiglio È stata allestita con simbolici palloncini rosa È assolutamente importante fare prevenzione Ed è per questo che il Consiglio regionale invita tutte le donne a farlo E appoggia questa iniziativa dell'Andos Il progetto La Regione si colora di rosa Insieme per la prevenzione, giunto quest'anno alla quarta edizione Nasce con l'intento di promuovere e incrementare l'adesione ai programmi di screening Interagendo e collaborando con i comuni piemontesi Per poter raggiungere anche le aree più disagiate E creare una rete virtuosa di supporto Il Mese della prevenzione, l'Ottobre Rosa È diventata un'iniziativa che coinvolge il territorio Che è dedicata alla cura delle donne Alla prevenzione di malattie che diventano terribili e invalidanti per le donne E crediamo che il Consiglio regionale del Piemonte Debba da questo punto di vista continuare il suo cammino Verso una proposta di medicina di genere Di medicina di cura delle donne Che coinvolga quanto più possibile il territorio In Piemonte l'incidenza del tumore della mammella È di circa 4.500 nuovi casi tra le donne E si stima che il numero di decessi sia attorno a 800-1000 casi La mortalità sta diminuendo negli ultimi anni Grazie ai progressi nelle terapie E ai programmi di screening Che rendono possibili diagnosi precoci È fondamentale che la gente faccia la prevenzione Perché è stato dimostrato Che riduce lo screening Riduce la mortalità E quindi non ha senso non aderire Approvato l'ordine del giorno Culle per la vita Confronto in aula sul tema delle politiche materno-infantili Programmare una campagna di informazione capillare Sulle culle per la vita Che coinvolga anche i comuni E collocare uno di questi dispositivi In ogni struttura sanitaria piemontese In cui sia presente un reparto di neonatologia e pediatria Affinché a tutte le mamme e i bambini Siano assicurate le stesse possibilità di accoglienza e vita E quanto chiede l'ordine del giorno Presentato come primo firmatario Da Silvio Magliano, lista Cirio È approvato a maggioranza dall'aula Il documento, votato per punti Ha ottenuto nella prima parte relativa alla campagna informativa L'approvazione anche delle opposizioni Tranne il Movimento 5 Stelle Che ha deciso di non partecipare al voto Le culle per la vita Consentono alle madri in difficoltà Di lasciare il proprio neonato In anonimato, in un luogo sicuro e riscaldato Collegato al pronto soccorso neonatale Dove potrà ricevere immediate cure In discussione, ma ancora da votare Anche un ordine del giorno Prima firmataria la consigliera Nadia Conticelli Partito Democratico Che chiedeva alla Giunta Di potenziare la rete dei consultori territoriali E di programmare una campagna informativa Sul parto in anonimato Nel corso del dibattito La presidente di Alleanza Verdi Sinistra Alice Ravinale Ha sottolineato che ben vengano le culle Per la vita e soprattutto Lo strumento dei parti in anonimato Ma se si intende tutelare la vita che nasce Bisogna anche affrontare il problema della normativa Sull'adozione A cui è ancora troppo difficile accedere in Italia Condivisione sull'ordine del giorno di Magliano Ma anche sulla diffusione dell'informazione Sul parto in anonimato Proposta dall'ordine del giorno di Conticelli È stata espressa da Paola Antonetto Fratelli d'Italia Che ha ricordato come attraverso il fondo Vita nascente della regione Piemonte Nel 2023 Sono state assistite 478 nuove madri in difficoltà Mentre il milione di euro stanziato per il 2024 Contribuirà ad alzare l'asticella dei risultati Pur non d'accordo in maniera completa Sull'ordine del giorno Magliano La consigliera Monica Canalis Partito Democratico Ha riconosciuto che la discussione Ha permesso di riportare il confronto Sul merito delle politiche Per la tutela materno-infantile Il gruppo Movimento 5 Stelle Ha deciso di non partecipare al voto Sull'ordine del giorno Magliano Mentre si è espresso favorevolmente Per l'ordine del giorno Conticelli Il primo documento pone al centro Il neonato Il secondo Oltre al neonato Ritiene centrale anche la salute della donna Che per noi è fondamentale Ha precisato la capogruppo Sara Di Sabato L'assemblea ha anche respinto L'ordine del giorno Del primo firmatario Alberto unì a Movimento 5 Stelle In materia di rinnovo Del contratto nazionale di lavoro Degli operatori del trasporto pubblico locale Piano regionale di qualità dell'aria E lotta al dissesto idrogeologico Sono queste alcune delle priorità Su cui si concentreranno i lavori Della quinta commissione consigliare Sentiamo il presidente Sergio Bartoli E i due vice presidenti Alberto Unia e Daniela Cameroni L'ambiente è molto importante Bisogna cercare di stare sempre Al passo con i tempi E cercare di fare del nostro meglio Per la salvaguardia del nostro Piemonte In questo momento le emergenze Dal punto di vista ambientale Sono legate soprattutto Alla qualità dell'aria Al dissesto idrogeologico Che ahimè non colpisce Soltanto la regione Piemonte Ma tante regioni in Italia Come abbiamo visto in questi giorni E questi sono i due temi Su cui ci concentreremo Nei prossimi mesi Andremo a toccare varie tematiche Tra i quali anche Quella dei rifiuti Non da ultimo invece Che un po' si interseca Diciamo così con l'agricoltura Il grosso problema Diciamo degli abbruciamenti Che da un lato sono vietati Per i fumi emessi E dall'altro Per alcune associazioni di categoria Appariano a essere indispensabili E onestamente Abbiamo avuto la recente esperienza Di queste piogge molto intense E di quanto danno creino Questi materiali di risulta Laddove non sia possibile svantirli Si è insediato il nuovo Comitato Resistenza e Costituzione Del Consiglio regionale La prima riunione Al Polo del Novecento Si è ufficialmente insediato Il nuovo Comitato Resistenza e Costituzione Del Consiglio regionale del Piemonte Con la prima riunione Tenutasi presso il Polo del Novecento di Torino Il Comitato Organo che ha nella propria missione La promozione dei valori della resistenza E la diffusione dei principi costituzionali Da decenni è punto di riferimento Per le attività di preservazione Della memoria storica E di diffusione della cultura civica e democratica Tra le giovani generazioni Il mio mandato sarà caratterizzato Da tre verbi Programmare, condividere, scegliere Per definire al meglio l'ordine Delle priorità di ciò che vogliamo offrire Ai piemontesi Ha spiegato il Vice Presidente del Consiglio E Presidente del Comitato Domenico Ravetti Leggere e rileggere La prima parte della Costituzione Significa anche rimettere a memoria Cosa significa diritti e doveri in questo Paese E come le istituzioni pubbliche Devono lavorare per garantirli Perché altrimenti resta una narrazione Resta una memoria E non la contemporaneità della democrazia Attraverso la memoria e la storia Si crea futuro Si crea futuro nel prendere Dalla memoria e dalla storia Quegli insegnamenti che servono Ad andare avanti A progredire A creare cittadinanza Durante l'incontro si sono susseguiti Oltre 20 interventi di rappresentanti Delle istituzioni E del mondo associativo Tra cui quelli dei consiglieri Daniele Valle e Nadia Conticelli Partito Democratico Alice Ravinale Alleanza Verdi Sinistra Presente anche Vittoria Nallo Stati Uniti d'Europa Il Presidente dell'Assemblea Davide Nicco Ha incontrato I rappresentanti Dell'Ordine dei Notai Piemontesi Tra cui il Presidente Del Consiglio Notarile Di Torino e Pinerolo Alessandro Scilabra Sono stati approfonditi Diversi aspetti Legati al ruolo dei Notai Nella tutela della legalità Nella semplificazione Delle procedure amministrative E nel supporto Alle attività economiche E sociali Della regione Avviate le procedure Per un nuovo inceneritore O per il potenziamento Del gerbido L'assessore Gianluca Vignale Ha risposto A un question time Di Alberto Unia Movimento 5 Stelle Solo per la parte residuale Di rifiuti rimasti Dopo la raccolta differenziata Per i quali non è possibile Il recupero E' previsto il ricorso Alla termovalorizzazione L'attuale impianto Del gerbido Non è sufficiente In base alla quantità Di rifiuti da trattare Che è stimabile In 276.000 tonnellate L'anno L'autorità d'ambito Su sua iniziativa E in autonomia Ha avviato la consultazione Con procedure Di evidenza pubblica Con lo scopo Di accettare Eventuali candidature Dei comuni Per ospitare Sul proprio territorio Un ulteriore impianto E eventualmente Di prevedere L'ampliamento Di quello di Torino Questa è la risposta Data dall'assessore Gianluca Vignale In base a quanto predisposto Dall'assessore Matteo Marnati All'interrogazione Di Alberto Unia Movimento 5 Stelle Che nel corso Del question time Ha interrogato La giunta Su quali fossero Le motivazioni Che hanno portato La regione Ad avviare ufficialmente Il processo Per la realizzazione Di un nuovo inceneritore In Piemonte Nonostante le numerose Criticità ambientali E sociali Legate a questo tipo Di impianti Il piano regionale Per la gestione Dei rifiuti urbani E di bonifica Delle aree inquinate Ha effettuato Una valutazione comparativa Tra i diversi scenari Ha proseguito l'assessore Dalla comparazione Emerge che La termovalorizzazione È la soluzione Ambientalmente Più conveniente Per quella parte Di rifiuti Per la quale Non è possibile Il recupero Di materiali Per questa edizione È tutto Prima di salutarvi Vi ricordo Che sul sito cr.piemonte.it Trovate notizie E aggiornamenti Sull'attività Del Consiglio regionale Del Piemonte Arrivederci Per la quale E aggiornamenti Per la quale Per la quale Grazie a tutti